Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video. In questo video vi vorrei parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, perché questo è il periodo dove molti di voi, sia ragazzi che ragazze, hanno gli esami di maturità. Oddio. Questa parola mi ricorda quando l'ho fatto io e lassù appeso c'è il mio diploma, per fortuna sono riuscita a essere promossa con 75, poteva andare peggio e prima cosa vi vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo per questa cosa, sperando che comunque i consigli che vi darò in questo video vi saranno utili. Allora, che cosa posso dire sulla preparazione agli esami di maturità? Dunque, accendiamo un po' la luce perché non sono le nuove là. Dunque, eccoci. E luce fu. Vediamo se spingere questo. Beh, innanzitutto vi posso dire che è normale che l'ansia vi attanagli. Io mi ricordo che quando avevo gli esami non dormivo praticamente mai e mangiavo anche meno di quanto, insomma, mangio normalmente perché avevo la nausa, mi sentivo, ero preoccupata, anche se avevo studiato è normale che ti prenda l'ansia perché comunque è un esame, se no non si chiamerebbe esame se fosse una cosa tranquilla. E poi, beh, il primo consiglio che vi posso dare è cercate di stare calmi. Lo so che non è facile, però a me un pensiero che mi ha sempre aiutato è il fatto che ormai quello che uno ha fatto, ha fatto. Cioè, è inutile stare a lambiccarsi il cervello e a dire, oddio, ma la saprò, non la saprò. Io mi ricordo addirittura che quando mi svegliavo la mattina, siccome avevo studiato tanto, ma proprio tanto, mi portavo anche il libro quando mangiavo, mi ricordo, il primo pensiero che mi veniva la mattina era le cose che avevo studiato. Tipo io mi ricordo che il primo pensiero che avevo era la vita di Pirandello, tipo mi ripetevo Pirandello, Pirandello ho scritto questo. E vabbè, poi un altro consiglio che vi posso dare è cercate di stare tranquilli, magari la sera, la notte prima degli esami, bevetevi una bella camomera, così fate un bel sonno perché è importante dormire, soprattutto nel periodo prima degli esami, perché avete bisogno di molte energie per affrontarli al meglio. Poi ripassate, cercate di studiare, non fate come me che ogni tanto faccio questo errore qui, di fare l'accumulo, cioè di studiare tutto insieme l'ultimo giorno perché diventa una cosa veramente impossibile. Soprattutto se studiate tutti i libri in un colpo, poi fate confusione. Mi ricordo che io infatti al posto di economia avevo detto diritto. Poi vabbè, all'esame ho fatto le peggiori figure di merda nella storia, tipo agli orali mi cadde pantaloni e il professore mi disse, ci vuoi fare lo strip? Vabbè, questo è un piccolo fatto che è accaduto un po' imbarazzante. Poi un altro consiglio, la mattina fate una bella colazione perché, come ho già detto, dovete avere molte energie per affrontare gli esami al meglio e cercate di non addormentarvi. Vabbè, l'ansia vi terrà svegli, quindi a qualcosa serve l'ansia. E poi, beh, non è che ci siano molti consigli da dare. Fatevi dei riassunti perché facilitano molto. Peccate di non fare i bigliettini anche se io lo confesso l'ho fatti. Io li nascondevo nel dizionario inglese. Beh, sappiate che se è come era prima vi sequestrano il cellulare, quindi non pensate di poter consultare internet o wikipedia perché cascate male. Beh, questi sono più o meno alcuni consigli che vi posso dare e per il resto non c'è molto da dire. Se avete studiato e sapete che comunque vi sentite preparati, state tranquilli. Se no, ripassate e ripetetelo il più possibile. Bene, io vi faccio ancora tanti auguri. Fatemi sapere se i miei consigli vi sono tornati utili. Vi saluto, saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!